Il taglio viene eseguito con la forbice perché ora non abbiamo, però c'è già anche il dispositivo della resistenza elettrica che può tagliare. Questa è la sede delle solette e chiudi ad anello praticamente la balza, questo si chiama operazione per chiudere ad anello la balza. Con questa macchina si può assemblare anche un collant. Attaccando il tassello, la metà del tassello alla metà della calza, facendo ruotare il tassello sotto la cucitura. La calza deve essere sempre dritta alla cucitura, il tassello che deve ruotare verso la calza. E attaccando l'altra gamba, partendo dall'elastico, tenendo la tesa, non tirata, non morbida, ma tesa. La calza deve essere sempre dritta. La calza deve essere dritta. La calza deve essere dritta. Finito i lavori? Qua ci siamo. Adesso c'è la base. Ok.